Green Pass, Super Green Pass, fatto bene e non capisco tanta gente che non sia ancora vaccinata per questo paese e vedendo la situazione come ora sarebbe anche il caso ora a gennaio dopo aver fatto Capodanno anche fare qualcosa di più. Forse è stato disposto tutto male. Io credo che l'obbligo vaccinale andava fatta da subito perché era la scelta migliore anche perché sostengo che sono decisamente per il vaccino tranne i casi in cui purtroppo le persone sono a rischio e credo che ribadisco che invece la scelta del Green Pass è solo una scelta politica.